terza parte della quattordicesima lezione dell'insegnamento di analisi in matematica 1b. Supponiamo adesso di avere due funzioni vettoriali, una f definita su un dominio a a valori in rm con a un dominio contenuto in rn, quindi f dipende da n variabili, mi restituisce m valori, che è una funzione g definita su un dominio b a valori, prendiamoli in rk, dove b è contenuto in rm, quindi lo spazio di partenza della g è lo spazio di arrivo della f, quindi immaginiamo di avere un insieme, un insieme a, la nostra funzione f che arriva in un certo sotto insieme di rm, qua abbiamo lo spazio rm, qua abbiamo lo spazio rm e supponiamo di avere poi la funzione g che parte da b nello spazio rm e arriva nello spazio rk. Ora, quando f arriva in punti del dominio di b, la funzione g può ripartire e quindi possiamo formare la funzione composta, quindi avremo una funzione composta g composta con f che parte da quella porzione del dominio che ha un'immagine contenuta nell'intersezione di b con l'immagine di f, quindi chiamiamolo a tilde questo insieme, g composta con f, questo a tilde a valori in rk e il dominio della funzione composta non è nient'altro che i punti del dominio della f, tali che i valori della f cadono nel dominio della funzione g. E g composta con f calcolato nel punto x non è altro che g di f di x. Questa è la funzione composta. Il teorema della differenziazione di funzioni composte ci dice che quando se f è differenziabile in un punto x e g è differenziabile nel punto f di x e la funzione composta g composta con f è definita in un punto x, allora la funzione composta è differenziabile in x, quindi g composta con f è differenziabile nel punto x e non solo ma la matrice jacobiana della funzione composta nel punto x si ottiene facendo il prodotto della matrice jacobiana di g calcolata nel punto f di x per la matrice jacobiana di f calcolata nel punto x. Questo è un prodotto fra due matrici. la matrice g ha k righe e m colonne, la matrice f ha m righe ed m colonne e quando abbiamo una matrice k per m si può sempre moltiplicare per una matrice che ha m righe e quindi quello che viene fuori è una matrice della forma k per m, infatti la funzione composta dipende da n variabili e mi restituisce k valori. Questa formula poi non è altro che la formula che già conosciamo per la derivata di funzioni composte è generalizzata al caso vettoriale. Nel caso di funzioni scalari di una variabile, quindi quando abbiamo n uguale a m uguale a k uguale a 1, noi sappiamo già che la derivata della funzione composta calcolata nel punto x è la derivata della funzione esterna calcolata nella funzione interna che moltiplica, questo deve essere un prodotto fra numeri, la derivata della funzione interna. Questa è la formula delle derivate di funzioni composte. Ecco, nel caso vettoriale la formula è la stessa, solo che al posto delle derivate, non ce n'è più una sola, c'è la matrice delle derivate, ovvero la matrice jacobiana. Attenzione, attenzione che il prodotto di matrici non è commutativo, quindi attenzione a non fare l'errore, attenzione, la matrice jacobiana g composta con f non è la matrice jacobiana di f che moltiplica la matrice jacobiana di g. Mentre nel caso di una variabile possiamo sempre, il prodotto è comutativo, il prodotto di matrice non è comutativo, potrebbe anche non essere definito questo prodotto. matrici non è comutativo, quindi l'ordine con cui andiamo a considerare le matrici jacobiana è importante. Il prodotto di matrici non è comutativo, però è associativo, quindi vale la regola associativa e quindi in particolare se abbiamo una composizione di tre funzioni, se andiamo a fare la matrice jacobiana jacobiana di h composto con g composto con f, supponiamo di avere una catena di composizioni in un punto x, la composizione associativa possiamo vederla come la funzione h con la funzione composta g composto con f e quindi avremo la matrice jacobiana di h calcolata in g di f di x per la matrice jacobiana della funzione composta g composta con f, quindi la matrice jacobiana di g calcolata in f di x per la matrice jacobiana di f calcolata in x e qui abbiamo un prodotto di tre matrici, questi prodotti sono prodotti matriciali e così via si può generalizzare anche la composizione di n funzioni. Questa formula di derivata di funzioni composte è una formula estremamente importante da capire bene, serve in tanti contesti, la dimostrazione di questa proprietà è analoga alla stessa che si fa in dimensione 1, proviamo a riproporla, diamo la dimostrazione quindi della formula della derivata di funzioni composte, quali sono le ipotesi? Le ipotesi sono che sia la f che la g sono differenziabili, quindi abbiamo che f nel punto x più un incremento h, questi sono vettori, è data da f nel punto x più la sua matrice jacobiana nel punto x che moltipita il vettore degli incrementi più uno piccolo della norma del vettore degli incrementi, questo quando l'incremento h, il vettore degli incrementi tende allo 0 di rn. Ma abbiamo anche l'ipotesi di differenziabilità della g, quindi g calcolato nel punto y più un vettore degli incrementi k sarà la stessa cosa, g di y più la matrice jacobiana di g calcolata nel punto y che moltiplica l'incremento k più uno piccolo della norma di k e questo quando k tende al 0. Andiamo a dare dei nomi a questo piccolo, quindi facciamo così, adesso chiamiamo questo piccolo qui, lo chiamiamo psi di h e questo piccolo qua per la g, lo chiamiamo anche psi di h, quello per la f, e psi di k, lo piccolo della g. adesso andiamo a prendere come poniamo come y il punto f di x e come incremento k andiamo a prendere l'incremento della f, quindi f di x più h meno f di x e questo per l'approssimazione del primordine della f non è altro che la matrice jacobiana di f e calcolata in x applicata al vettore h più questo piccolo di h, questo fi di h e questo è il mio nuovo k. Andiamo a sostituire a y e k queste quantità qui, troviamo quindi che g di... allora, y più k sarebbe f di x più h meno f di x quindi g di f di x più h, questa è la mia y più k, è uguale a g di y quindi a g di f di x più la matrice jacobiana di g calcolata nel punto y, ovvero in f di x che moltiplica il vettore di f di x che moltiplica il vettore h più fi di h, questo è il mio k, più psi calcolato in k, quindi psi di j di f di x, h più fi di h. Allora, questa approssimazione vale se h tende a 0 e osserviamo che quando h tende a 0 anche jf di h, sappiamo che le applicazioni lineari sono continue, quindi anche jf applicato ad h tende a 0 e lo piccolo della norma di h, perché fi è un piccolo della norma di h, tenderà a 0 anch'esso, quindi se h tende a 0 e dunque anche il nostro k tende a 0 quando h tende a 0. Ok, riorganizziamo queste cose che abbiamo scritto, quindi qui abbiamo la funzione composta, g composto con f calcolato in x più h, g composto con f calcolato in x più h, è uguale a g composto con f calcolato in x, questa qui, più, svolgiamo questi prodotti, qui abbiamo la matrice di g, di jacobiana di g calcolato in f di x, che moltiplica l'incremento h più, e adesso abbiamo un po' di termini, qui abbiamo la matrice di jacobiana di g calcolato in f di x per f di h, f di h è una funzione vettoriale, più la funzione psi calcolata in jf di x, h più f di h. Ecco, quindi abbiamo la funzione composta nel punto incrementato è uguale alla funzione composta nel punto più questa matrice qui, che è il prodotto delle due matrici jacobiane, che moltiplica il vettore degli incrementi, più questi termini di errore. Quello che dobbiamo far vedere è che questi termini di errore sono uno piccolo della norma di h per h, che tende a 0. Se facciamo vedere questo qui, allora otteniamo l'approssimazione del primo ordine cercata, quindi se vale questa cosa qui, cioè che questo resto è uno piccolo della norma di h, allora la matrice jg di f di x per la matrice jf nel punto x è la jacobiana della funzione composta, jg composta con f nel punto x, che è quello che dobbiamo dimostrare. Quindi adesso quello che dobbiamo fare è stimare i termini di errore. Ma noi cosa sappiamo? Sappiamo che i di h è uno piccolo della norma di h. e quindi cosa abbiamo? Abbiamo che la norma della matrice jcobiana di g in fx moltiplicata per fi di h, e intanto questa è una matrice per un vettore, questa sappiamo essere minore della norma della matrice jg di f di x, per la norma del vettore fi di h. Ma fi di h è uno piccolo della norma di h per h che tende a zero, e quindi questa cosa qui significa che se andiamo a fare fi di h fratto norma di h, abbiamo qualcosa che tende a zero. e quindi anche in norma tenderà a zero, sempre nel limite per h che tende a zero. E quindi cosa significa? Significa che c'è un intorno di zero in cui questo rapporto lo possiamo rendere piccolo quanto vogliamo. Quindi ciò significa che per ogni, chiamiamolo epsilon 1 positivo, esisterà un delta 1 positivo, tale che quando... il vettore degli incrementi h è più piccolo di delta 1, si ha che il rapporto di fi di h fratto la norma di h è minore dell'epsilon 1 che abbiamo scelto. e quindi questo fi di h lo possiamo rendere più piccolo di questo epsilon 1 per la norma del vettore h, scegliendo h più piccolo di questo delta 1 che dipenderà dalla scelta dell'epsilon 1. e quindi ecco che abbiamo questo minore uguale di epsilon 1 per la norma del vettore h, per la norma del vettore h. e questa è una prima parte. Per controllare il resto, allora, adesso dobbiamo controllare la seconda parte, la prima parte l'abbiamo appena fatto, nella seconda parte abbiamo psi di quel vettore che abbiamo chiamato k. vi ricordate? k era questo vettore qui. Quindi, vediamo come si comporta k quando h tende a 0. Beh, noi sappiamo che psi di k è uno piccolo della norma di k per k che tende a 0. e quindi questo cosa ci dice? Ci dice che per ogni epsilon 2 positivo esiste un delta 2 che dipenderà da epsilon 2 positivo tale che quando il vettore k è minore di delta 2 sia che è psi di k fratto norma di k norma di psi di k fratto norma di k è minore di epsilon 2. Quindi a noi ci serve k minore di delta 2. ma ricordiamoci che k non è altro che per come l'abbiamo definito la j è la matrice che abbiamo di f nel punto x che moltiplica h più fi di h e quindi quando andiamo ad applicare le norme la norma di una somma sarà minore uguale della somma delle norme e quindi qui otteniamo minore uguale qui abbiamo una matrice per un vettore avremo la norma della matrice che moltiplica la norma del vettore h più la norma di phi h ma la norma di phi h è minore di epsilon 1 volte la norma di h questo se h è minore abbiamo detto di delta 1 ma noi vogliamo che questa cosa qui tutta quanta questa espressione vorremmo che fosse minore di delta 2 in modo da avere la condizione richiesta su k questa quantità qui è la norma della matrice jf nel punto x più epsilon 1 che moltiplica la norma di h questa qui sicuramente è minore di delta 2 se si ha anche che cosa? che è la norma di se andiamo a prendere h più piccolo di delta 2 fratto la norma di je della matrice jf di x più epsilon 1 quindi mettiamo insieme queste due condizioni quindi scegliamo il vettore degli incrementi h più piccolo del delta definito come un valore minimo tra il delta 1 e questa nuova condizione qui delta 2 fratto la matrice jacobiana di f nel punto x in norma più epsilon 1 quando abbiamo questa condizione qui valgono tutti i calcoli che abbiamo fatto sopra e quindi in particolare da qui segue che la norma di k è minore di delta 2 e quindi quando la norma di k è minore di delta 2 segue che che psi che psi di k è minore di epsilon 2 norma di k da questa condizione qua ma la norma di k a sua volta è minore di questa quantità e quindi abbiamo epsilon 2 per la norma di jf di punto x più epsilon 1 per la norma di h andiamo a mettere insieme tutti i pezzi che componevano il nostro errore quindi il primo e il secondo pezzo il primo pezzo l'abbiamo stimato qua il secondo pezzo l'abbiamo stimato qua e quindi troviamo che diamo un nome a questo pezzo quindi chiamiamo omega di h tutto l'errore che stiamo stimando troviamo troviamo che omega di h in norma sarà minore o uguale la stima del primo pezzo era epsilon 1 norma della jacobiana di g per h e abbiamo un epsilon 1 norma della jacobiana di g calcolata in f di x per la norma di h più il secondo pezzo che quindi abbiamo l'epsilon 2 che moltiplica la norma della jacobiana di f calcolata nel punto x più y2 per y1 e tutto che moltiplica h questo vale quando l'h è minore di quel delta non abbiamo ancora detto come abbiamo scelto l'epsilon 1 e l'epsilon 2 sono qualsiasi numero positivo possiamo sceglierli quindi dato un epsilon positivo scelgo epsilon 1 prendiamolo vogliamo che ciascuno di questi tre pezzi sia minore di epsilon terzi quindi andiamo a prendere epsilon 1 uguale al minimo facciamo vedere per avere epsilon terzi dal primo termine prendiamo epsilon fratto 3 per la norma della jacobiana di g nel punto f di x e per avere epsilon 1 e epsilon 2 minore di epsilon terzi qui posso mettere la radice di epsilon terzi e l'altro pezzo è tornato da epsilon 2 epsilon 2 lo prendo il minimo fra qui prendiamo epsilon terzi fratto la norma della jacobiana di f nel punto x e radice di epsilon terzi quindi se epsilon è positivo anche queste quantità qui sono positive e ciascuna di queste quantità qui con questa ipotesi risulta essere minore di epsilon terzi risulta essere minore di epsilon terzi qui entrambe minore della radice di epsilon terzi il prodotto è minore di epsilon terzi e quindi troviamo che che cosa abbiamo trovato? troviamo che per ogni epsilon positivo fissato determiniamo epsilon 1 e epsilon 2 con quegli epsilon 1 e epsilon 2 abbiamo dei delta 1 e delta 2 con questi delta 1 e delta 2 troviamo il delta per h e quindi alla fine troviamo che esiste un delta che alla fine è funzione di questo epsilon positivo tale che quando la norma di h è minore di delta sia che la norma di omega h è minore di epsilon perché tre volte epsilon terzi fanno epsilon norma di h ovvero la norma di h di w h è minore della norma fratto h è minore di epsilon e tutta questa espressione qui equivale a dire che il limite per h che tende a 0 di w h diviso norma di h fa 0 ovvero che w di h è 1 piccolo della norma di h per h che tende a 0 che era quello che dovevamo dimostrare fine della dimostrazione